Ormai nel mio bar venite da tutta l'Italia per il mio cappuccino personalizzato E siccome ho la galleria piena Allora ho deciso di racchiudere tutti i vostri video, tutti i vostri cappuccini personalizzati In un solo video Guardate Barista di TikTok, ti voglio lanciare una sfida Ti sfido a farmi Pikachu sul mio cappuccino Il mio nome sul tuo cappuccino Il lupetto della Roma e sul suo il colosseo Un cappuccino sul cappuccino C'è la famiglia di dire io devo fare un cappuccino E poi prendo un altro cappuccino e io lo metto sopra Allora E come? Eh tu lo disegni sopra Stip di Minecraft Un cappuccino affiamato Stringerfix Pikachu sul mio cappuccino Mi vuoi disegnare sul cappuccino un unicorn? Ti lancio una sfida Disegna il mio nome stile Morales sul tuo cappuccino A me mi piace tanto il corsivo quindi fammelo bene il corsivo Io voglio una tigre Io voglio un charison per favore Voglio vedere se sei capace di fare un'ambulanza sul tuo cappuccino E l'ambulanza dov'è? C'è fuori? No, non c'è No, non c'è Io e il mio nome sul cappuccino Come ti chiami? Cristiana Io sono Miriam e lei è Carlotta Aurora Clara Gioele Leo Ok Accetto la sfida Grazie a tutti Ciao Ok Ciao Grazie a tutti. 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 Mi raccomando, dalle ore 9 alle ore 12. Vi aspetto dal parista di TikTok.